Compagni di banco da abbracciare, da salire. Siamo le classiche compagni di banco inseparabili, dopo quattro anni possiamo passare. Cinque ormai speriamo di passare anche questo. Siete abbracciate? Ovviamente. Mascherine, un ricordo lontano. Meglio, molto meglio. Sì, ormai per fortuna le hanno tolte perché... Com'è andata da un punto di vista proprio di studio? È un ambiente più sereno sicuramente, c'è più socialità e sono veramente contenta di riniziare così questo anno. Professori? Sì, molto più tranquilli, per fortuna si sono un attimo calmati. Primo giorno bene, siamo tutti sereni e credo che ci sia anche voglia di cominciare scuola senza mascherine, senza le restrizioni del Covid. E con il compagno di banco finalmente. Esatto, con il compagno di banco. Sono la rappresentante di istituto e quindi abbiamo fatto l'accoglienza per le classi prime oggi ed è andata molto bene. Sono delle prime molto vivaci e fa piacere rivedere questo genere di vivacità anche dopo questi anni di Covid. Compagni di banco, ci si può abbracciare finalmente? Finalmente sì, è tornato il compagno di banco. Finalmente è tornato anche lo scambio di interazioni durante le ricreazioni. Alcune persone che non avevi mai visto in faccia, anche i professori. Vederli senza mascherina va quasi un po' strano. Finalmente ci si può toccare abbracciato qualche compagno. Sì, ecco anche i compagni di banco, quindi è molto più socialità. Ci voleva. Sì, esatto, senza mascherina anche. Un respiro di sollievo perché non vedere più mascherine, vedere i visi delle persone è eccezionale. C'è proprio un respiro diverso, sì, è proprio bellissimo. La normalità, dare ai ragazzi una sensazione di lavoro sereno e farli concentrare su quello che devono fare. Secondo me la priorità è questa.